Grazie Presidente. Sono a sollecitare un'interrogazione orale al Ministro Minniti, depositata il 2 agosto del 2017, numero 303201, relativa alla grave situazione in cui versa la città di Gorizia da mesi a causa della mala gestione dei richiedenti asilo, costretti a pernottare all'aperto nei parchi cittadini e lungo le rive del Isonzo. E ora, a causa del mantempo, trovano riparo sotto la galleria pubblica bombi, perché mancano le strutture dove accogliere queste persone che sono in attesa di presentare la loro richiesta di asilo alla locale commissione territoriale. Sono privi di strutture igieniche e solo la disponibilità di privati, cittadini, volontari, gli garantisce la sopravvivenza. Il Sindaco di Gorizia continua a rifiutare qualsiasi tipo di intervento per dare accoglienza ai migranti e garantire loro condizioni di vita umane e di sicurezza igienico-sanitaria. Anche l'Ordine dei Medici, Presidente della provincia di Gorizia, ha scritto al Sindaco ed esprime preoccupazione per le inaccettabili condizioni dei migranti, mettendo a disposizione anche la loro professionalità. Noi sollecitiamo il Ministro a rispondere immediatamente a questa interrogazione. Grazie, Onorevole Corsaro. Grazie, Presidente. Come lei sa, come tutti sappiamo, è prassi che ad ogni tornata...